Ma la sedia no? Sono Paolo Maggi, sono in ABB da 23 anni e mi occupo del mercato italiano e delle macchine elettriche rotanti. Sul mercato italiano attualmente non vengono costruiti più impianti nuovi, ma il cliente cerca delle soluzioni per migliorare l'affidabilità delle proprie apparecchiature esistenti. Da qui nasce la necessità di offrire al cliente degli upgrading dell'apparecchiatura attuale. I vantaggi di un upgrading sulle macchine elettriche rotanti sono molteplici. Partiamo dal vantaggio del miglioramento dell'affidabilità della macchina, al potenziamento della macchina stessa, fino al miglioramento dell'efficienza energetica del motore elettrico. L'offerta ABB sugli upgrading offre un plus rispetto ai competitor, in quanto avendo la conoscenza dell'intero impianto, riesce con l'ottimizzazione della macchina elettrica rotante ad aumentare l'affidabilità dell'impianto stesso. Per qualsiasi informazione di upgrading su macchine elettriche rotanti ABB e non ABB, potete contattarci. A me mi chiama anche Piero Angela. Grazie.